Questa mattina presso il Cineteatro Ferrari di Sapri è stata presentata al pubblico la stagione di spettacoli che segna la riapertura e il nuovo corso della storica sala. Il Cineteatro Ferrari è stato chiuso per un lungo ventennio, nato nel 1948 dalla volontà del suo proprietario Giuseppe Ferrari e concepito dall'architetto Avena con una capienza di 1200 posti, nell'arco di 50 anni è stato per alcuni periodi l'unico cinema a servire i paesi della bassa Campania. Per celebrare proprio la sua storia stamattina è stato consegnato al sindaco del medico un biglietto tra i primi utilizzati al Ferrari, forse risalenti agli anni 60, con tanto di numero di fila e di posto. Ora il nuovo Cineteatro Ferrari, che dispone di 386 posti a sedere in platea e di 144 posti in galleria per un totale di 500 sedute, è pronto a ripartire grazie all'intervento dell'amministrazione comunale Saprese e della società graficamente SRL di Napoli, già attiva presso il Museo Uomo Natura di Tortorella e che ora ha preso in gestione, dopo un bando pubblico, la sala cinematografica. Il prossimo 22 dicembre inizierà la stagione teatrale con tanti nomi in cartellone, tra cui Biagio Izzo, Sergio Assisi, Carlo Bucci Rosso e Rosalia Porcaro, Giacomo Rizzo e Caterina De Santi, Selina Sastri. E poi ancora musica, reading, concerti jazz, classici di musica napoletana, riflessioni e spettacoli a tutto tondo, visto che il Ferrari avrà anche per la prima volta sul territorio una stagione lirica che partirà ad aprile. E ovviamente ci sarà il cinema a partire dal 23 dicembre. Tra gli intenti espressi stamane dinanzi alla platea, anche quella di creare un'orchestra del posto che sia di casa al Ferrari. I musicisti verranno scelti attraverso delle apposite audizioni per poi diventare i protagonisti di spettacoli ed eventi. Il futuro è dunque roseo per il Cineteatro Ferrari. Il Cineteatro Ferrari riapre e cosa avete pensato per questa struttura? Per questa struttura abbiamo pensato a una polivalenza di musica, teatro, cinema e cultura. Quindi oggi il Cineteatro Ferrari, ricollegandosi comunque alla tradizione della sua storia, vuole riproporsi in maniera poliedrica, quindi polifunzionale. Si parte il 22 con il teatro, con lo spettacolo di Biagioizzo. È stata anche annunciata una stagione lirica che sarà inaugurata ad aprile. Ancora da mettere a punto il programma cinematografico. Si parte però il 23 dicembre. Come mai? Allora perché stiamo praticamente acquistando dei proiettori di ultima generazione che vanno direttamente in sala, quindi non hanno più bisogno della vecchia cabina di regia. Questo per permettere anche l'utilizzo multidisciplinare della sala stessa. Questo purtroppo ci dà dei compromessi che sono quelli di un periodo di traghettamento per ottenere questo nuovo sistema, questo nuovo impianto, che ci dà un mesetto e mezzo circa praticamente di stand-by tra un impianto e l'altro, cosa che comunque riusciremo a sopperire entro il 23 con una piccola programmazione iniziale dove saranno proiettate delle prime visioni. Qual è l'assentore per quanto riguarda adesso l'avvio di questa nuova stagione del Ferrari? Allora, questo è un territorio del quale, ripeto, ci siamo innamorati tutta la nostra squadra quest'estate, nelle magiche notti del Cilento, su Almun, a Tortorella, nel pieno cuore verde di questo territorio. Ci siamo innamorati del territorio così come ci siamo innamorati delle persone che lo vivono. E il sentore è quello di un'emozione che ha voglia di esplodere, quello di voler tanto conoscere queste nuove iniziative e comunque sono tutte sensazioni belle, positive, forti. Non teme la concorrenza con l'altro cineteatro qui vicino? Ma io immagino una sinergia. Ho avuto la fortuna di vedere un po' la loro programmazione cinematografica in particolare. Ci setteremo sicuramente in modo da non accavarlarci. Io penso che sia molto più intelligente, molto più utile, molto più razionale per il territorio creare rete, farsi forza. Il cinema era già aperto, già è stato visto al pubblico, oggi si conosce il programma, attendiamo i dettagli della programmazione cinematografica. Comunque si parte il 22 con Izzo. Cosa prova adesso, oggi? Devo dire che è sempre emozionante. Io mi emoziono anche quando entro che non ci sia nessuno, quando siamo venuti, quando c'erano i lavori, perché questo è uno spazio straordinario. Ho detto nella conferenza, questo è il cuore della nostra città. Oggi diamo sangue a questo cuore, ma è la forza del paese, che sarà della nostra comunità, del nostro territorio, che può davvero dare a questo spazio la sua dimensione reale. E siamo orgogliosi di essere attori di questo progetto. La programmazione che è stata presentata oggi è una programmazione di grande respiro, è una programmazione che mette al centro la cultura, il progetto, c'è il cinema, c'è il teatro, c'è la musica, c'è lo stare insieme. Ecco, questa è la grande sfida.